Arianna Mielovic, la dedica social per Sinisa, ogni per me è una tempesta di pensieri. Ogni notte per me è tempesta di pensieri. Un post semplice, una foto. Arianna Mielovic è sorridente. Insieme a suo marito Sinisa Mielovic. Su Instagram da poco ha postato questo scatto. Di qualche anno fa, una foto splendida che sembra sia stata scattata al mare. Comunque in vacanza. Moltissime le risposte al postale. Da Vipcom Elena Santerelli e Paolo Conticini. A persone comuni che esprimono ancora di più il loro amore e l'affetto per il calciatore. Scomparso dopo una battaglia contro la leucemia lo scorso 16 dicembre 2022. Pochi giorni fa aveva pubblicato un'altra foto. Sempre su Instagram. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. E questo deve essere, questo è l'essenziale. Azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând, nici un curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai intarziat deja. Arunca spate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot eu să sar. Abunca nu.